supercracker sulla terretta cambio automatico velocità massima impostata 13 velocità reale 10 consumo 67 litri ora cracker piange 7.810 con moreni sforzo controllata quant'è? 22 su 6 ma tanto ci sia non ci sia uguale qui e invece cambia come cambia? si ingolfa se non usiamo lo sforzo controllato lo spesso perciò troppo si vabbè ma non dicevo non cambia niente è il livello di traino assolutamente quel mici riempie le fosse ma mamma mia torneranno a rifare qua fa il lavoro al contrario prendi forse poi lavora da terra hai visto? strani siamo in Toscana ma noi in Toscana qua questa zona qua fanno così sforzo controllato miropa e usi io gu c'è la toscana si Grazie a tutti.